Amici giuventini di calciomercato.com, torniamo a parlare della partita di ieri tra Juve e Atalanta, un punto guadagnato o due punti persi, nel senso che se si fosse vinto si sarebbe lo guadagna altri due punti in più. Per Allegri è un punto guadagnato sul Bologna, che è quarta, ha perso con l'Inter, tu hai pareggiato con l'Atalanta che è un'altra pretendente alla Champions, quindi hai fatto un passo avanti. Ma io mi chiedo, ma questo è il modo di ragionare di un allenatore della Juventus? Io personalmente sono molto deluso dalla partita di ieri della Juventus perché a Juventus avrebbe potuto tranquillamente portarsela a casa se fosse stato un pochettino più attente, se fossero stati fatti i cambi giusti e ci fosse stato l'atteggiamento giusto dopo aver ribaltato la partita, perché comunque la Juve la ribalta la partita ed è un'impresa, una piccola impresa, perché dopo tutto il primo tempo scarto, scadente che hai fatto e sei andata in svantaggio sei riuscito comunque a ribaltare con l'Atalanta, con la quale non vinci dal 2018, anche questa è una cosa che non può esistere, che la Juve in casa dal 2018, da sei anni, non riesce a battere l'Atalanta per quanto l'Atalanta sia una squadra forte, brava, è allenata bene, ha dei buoni giocatori, ma tu sei sempre lo Juventus Football Club e non riuscire a battere l'Atalanta al 2018 dice che c'è qualcosa che non funziona nella Juventus, non funziona. E comunque non puoi essere contento di aver preso un punto sul Bologna. Tu la partita la stavi vincendo, l'avevi ribaltata, tu dovevi portartela a casa, di riff o di raffa, stringendo i denti e aggrappandoti con le unghie a quel risultato, ma la dovevi portare. Come eri riuscita a portare a casa tanti altri risultati? Ricordo ad esempio la vittoria contro la Roma, che era stata una vittoria faticosa, alla fine con la compattezza della squadra a livello difensivo si è riuscito a portarti a casa all'1-0. Invece stavolta la ribalti e non riesce ancora a portarti a casa la vittoria, come è successo con l'Empoli, perché con l'Empoli è successo la stessa cosa, eri addirittura in inferiorità numerica? Pensa alla forza che ti avrebbe dato, la motivazione che ti avrebbe dato in vista di San Siro aver battuto l'Empoli in casa nonostante l'espulsione di Milik all'inizio della partita, quindi giocato praticamente per 80 minuti in inferiorità numerica se non di più, compreso il recupero. Invece anche lì commetti l'errore perché sbagli i cambi, sbagli il modo di stare in campo. Anche ieri mi dite a cosa serve mettere Alessandro al momento in cui hai fatto 2-2, sei preso il 2-2 e devi magari provare a rivincere, a ribaltarla di nuovo, invece fai un cambio conservativo. Soprattutto togli l'ingiunio che non avrà fatto sicuramente la partita più indimenticabile della sua storia, da quando è la Juventus, però non metti Alessandro, ma perché non metti Kostic? Ma Kostic cos'è? È sparito? Sta male? Che cos'è? Perché Kostic non deve più avere minutaggio alla Juventus? Sarà meglio Kostic di Alessandro? Tra l'altro Kostic fa anche la fase difensiva e quindi potevi mettere, potevi usare qualcosa in più. Metti Ken al 22esimo minuto del secondo tempo, togliendo Milik che aveva anche segnato, ma dai fiducia ancora a Milik perché Ken ha sicuramente più minuti di Milik, di Ken che arriva da un lungo infortunio e che non vedeva il campo da un mucchio di tempo e che non ha mai segnato un gol in questo campionato e ieri non l'ha neanche strisciata la palla. Cioè non capisco questo. Poi chiaramente Allegri si difende dicendo ma quelli ho. Sì ma non può essere sempre il buon motivo per dire che la squadra è giovane, inesperta. Questo è l'alibi per difendere se stesso e dire io ho lavorato con questi quindi io con questi se li porto in centro ho già fatto il mio. Ma una squadra che stava a meno uno dalla vetta della classifica, adesso a meno 17, dopo essere passato attraverso tutte delle partite abbordabili, francamente non è un ragionamento che ci sta. Non è un ragionamento che ci sta. Ieri a maggior ragione era importante portare a casa quel 2-1 perché lo portavi a casa anche senza Rabiot e senza Vlaovic. Cioè vuol dire tanto togliere Rabiot e Vlaovic è una squadra che io ho sempre ritenuto mediocre dall'inizio del torneo, dall'inizio della stagione. Non mi ha mai convinto nessuno su sta faccenda che ma no ma ci sono tanti nazionali ma il livello della squadra è elevato. È soltanto colpa di Allegri. È colpa di Allegri ma è anche mediocrità della squadra. Perché se ci fossero dei giocatori più di qualità sicuramente la Juventus ieri avrebbe portato a casa il risultato. E l'avrebbe portato a casa anche con questi giocatori se questi giocatori avessero la fiducia in se stessi come ce l'avevano nella prima parte della stagione. Nella prima parte della stagione ce l'avevano fiducia in se stessi e i risultati se li portavano a casa. Con fatica ma se li portavano a casa. Invece adesso non ce la fanno più. Non ce la fanno più. E soprattutto c'è un tecnico che non riesce a caricarli, a motivarli, a spronarli, a svegliarli. Non ce la fa. Continua a dire che è comunque un punto guadagnato sul Bologna e va bene così. Tanto il nostro obiettivo è entrare in Champions. Ma tanto ad andare avanti così, ad andare avanti così, Cala Allegri, probabilmente la Juve entrerà in Champions quarta come tu hai sempre desiderato. Come hai sempre desiderato perché quello era l'obiettivo dall'inizio della stagione e quindi ti va bene così. Personalmente non mi va bene così. Lo stadium ieri è vero che c'era la curva che ha incitato Allegri, il resto dello stadio è stato critico, fischiato perché certi giocatori, cominciavano da Locatelli, meritavano i fischi e perché effettivamente una Juve così per più di un'ora che era in balia di un'Atalanta che tra l'altro arrivava da un tour de force. La Juve non ha fatto partite di Coppa in questi ultimi settimane. Atalanta ha avuto la Coppa, ha avuto l'Inter e il Milan. Cioè ha avuto una serie di partite da fare. Ha perso in casa col Bologna. perso in casa col Bologna. Eppure è arrivata a Torino o a Torino dal 2018 non perde e non ha perso nemmeno stavolta. Incredibile. Incredibile. Ma qui c'è da cambiare un po' tutto ma se ne devono rendere conto i dirigenti. Giuntoli se ne è reso conto di sicuro. La situazione ce l'ha bella chiara. Così come io ho anche bello chiaro che Chiesa non può essere ceduto. Lo vado dicendo ad ogni video, continuo a ripeterlo. non può essere ceduto Chiesa. Perché se ieri la squadra si è accesa, si è accesa perché ad accendere la squadra ci ha pensato Chiesa in certi momenti. In certi momenti si è caricato lui la squadra sulle spalle e l'ha accesa e i giocatori lo stavano, i compagni lo cercavano. Perché lui è un giocatore che può essere un trascinatore. E ha voglia di stare la Juve. Guardatevi soltanto quando si inchina sotto la curva ad esultare. Perché? Perché ci tiene. E tu un giocatore del genere lo fai fuori. Tutti sono vendibili nella Juve. Tutti meno Chiesa. Tutti.